Ciao amici, come vi proteggete in inverno dai malanni di stagione? Facciamo gli scongiuri sperando di non prenderli. Interessante, ma funziona? Meglio se vediamo insieme un rimedio naturale potentissimo per proteggersi da tosse, raffreddore, mal di gola e naso chiuso. È facile da fare in casa con gli ingredienti comuni che si trovano in cucina. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Gli ingredienti amici del sistema immunitario di oggi sono zenzero, curcuma, miele, peperoncino e succo di limone. Lo zenzero è un antisettico e antinfiammatorio naturale e libera le vie respiratorie. La curcuma è una spezia con potere antibiotico e antivirale con benefici dimostrati dalla scienza. Il peperoncino riscalda, è tonificante, sostiene il metabolismo e potenzia gli effetti delle altre spezie. Il miele è mineralizzante, sostiene il sistema immunitario contro febbre e raffreddore. Il succo di limone è ricco di vitamina C, antiossidante, con minerali che bloccano i radicali liberi e l'infiammazione. Wow, che potenza! Come si prepara? È facilissimo! Prima si mescola. Un cucchiaio di polvere di zenzero a un cucchiaio di polvere di curcuma. Si aggiunge un pizzico di peperoncino in polvere e un cucchiaio e mezzo di miele. Mescolare bene e aggiungere il succo di mezzo limone. Ed ecco la nostra ricetta potente. E me la devo mangiare così? Solo i temerari. Per tutti gli altri meglio sciogliere in acqua tiepida oppure spalmarla sul pane. I trattati di naturopatia consigliano di assumerla al mattino come prima cosa per una settimana. Così si stimola il sistema immunitario, si riducono i sintomi dei malanni stagionali e si riduce il rischio di ammalarsi in modo più serio. Fantastico vero? Per stare in salute dopo questo video andate a vedere la mia playlist con tutti i migliori rimedi naturali per l'autunno e l'inverno. E per seguire le nuove uscite iscrivetevi al canale. È facile! Con un click così attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Usa i rimedi naturali e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri e ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!